Bancarotta, sequestrati 28 milioni di euro ad un imprenditore palermitano, indagini della Guardia di Finanza su un giro di false fatture. Testano una pistola con silenziatore in strada, quattro arresti a Catania. Marsala, la Cassazione conferma il gastolo per Margareta Buffa. La donna è stata processata per concorso nell'omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, massacrata con 12 coltellate. Incendi, un'assemblea di cittadini per chiedere risposte alla regione. Il coordinamento, formatosi dopo i drammatici roghi della scorsa estate, ha manifestato a Palermo davanti al Palazzo d'Orlean. Dal 18 al 24 luglio torna Cinema City Palermo 2024 con un programma di proiezioni tutte gratuite e talk dedicate al cinema d'autore e ai suoi protagonisti. Bentrovati e bentrovati da parte mia e da tutta la redazione di Tele One alla prima edizione dell'ETG Media News. In apertura cronaca, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha emesso un decreto di sequestro di beni per 28 milioni di euro ai sensi della normativa antimafia nei confronti di Francesco Gambino, 57 anni, titolare della Gambino, gruppo SRL, società attiva nel settore di trasporto merci, arrestato nel 2021 insieme ad altre quattro persone con l'operazione Vanish Vat e attualmente sotto processo. Ascoltiamo adesso i particolari nel servizio. Evasione, fatture false e fallimenti pilotati sequestrati beni per 28 milioni ad un imprenditore di Palermo dalla Guardia di Finanza che ha eseguito un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Si tratta dell'imprenditore palermitano Francesco Gambino, 57 anni, titolare della Gambino, gruppo SRL, gruppo societario operante nel settore del trasporto merci su strada, coinvolto nell'operazione Vanish Vat nel 2021. A quasi tre anni dal suo arresto, insieme ad altre quattro persone, sono stati sequestrati otto immobili tra Palermo e Ficarazzi, sei società con sedi a Palermo e Catania, conti correnti e veicoli per un totale di 28 milioni di euro. Infatti l'attività investigativa da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria avrebbe delineato l'esistenza di un'associazione per delinquere, dedita alla Commissione dei reati di utilizzo ed emissione di fatture false per un importo di oltre 16 milioni di euro, omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali e bancarotta fraudolenta, evidenziando altresì che grazie sia un consolidato schema articolato sulla creazione di una serie di società di comodo, Gambino sarebbe riuscito ad abbattere illecitamente il reddito imponibile delle due imprese, tanto che il sistematico inadempimento degli obblighi impositivi avrebbe causato il fallimento di una delle due società che aveva accumulato un'esposizione debitoria verso l'erario di oltre 22 milioni di euro. Sulla base di quanto emerso, il Tribunale ha qualificato Gambino quale soggetto socialmente pericoloso, spiccando lo squilibrio costante fra fonti lecite di reddito e beni nella sua disponibilità. E la cronaca adesso ci porta a Catania. Colpi di pistola esplosi a Catania nel rione San Berillo Nuovo in un luogo abitato e la segnalazione anonima di un cittadino al numero di emergenza hanno fatto scattare le indagini della squadra mobile sezione Falchi. Agli arresti domiciliari sono finite quattro persone. I dettagli nel servizio. La polizia di Catania ha eseguito su disposizione della procura distrettuale un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone gravemente inviziate a vario titolo e con differenti profili di responsabilità dei reati di detenzione in concorso di arma da fuoco clandestina con silenziatore inserito, ricettazione, esplosione in luogo abitato di colpi d'arma da fuoco e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si tratta del 24enne Salvatore Catania, del 23enne Santo Roberto Ranno, del 24enne Carmelo Tira Longo e del 37enne Sebastian Rosario Spina. Le indagini avrebbero permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento dei quattro in un grave episodio di esplosione di colpi d'arma nel rione San Berillo Nuovo. L'indagine è iniziata a seguito di una segnalazione effettuata tramite il 112 da un cittadino che, preoccupato, aveva informato sulla presenza di persone che stavano sparando. Giunta sul posto la polizia ha identificato tre dei quattro soggetti attualmente indagati, Catania, Ranno e Tira Longo. Tra la vegetazione vicino ad un muretto, gli agenti hanno rinvenuto una pistola con matricola a brasa, con il caricatore priva di cartucce e con il silenziatore inserito. A pochi metri di distanza a terra sono stati recuperati sei bossoli di pistola. La visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati in prossimità dei luoghi ha consentito di ricostruire la dinamica. Nei video si vedrebbero i quattro mentre sparano più colpi passandosi la pistola tra loro. Il quarto indagato, Spina, è stato identificato successivamente. Il giovane, già sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nel territorio di Ascireale, sarebbe stato presente al momento degli spari e sarebbe riuscito però a fuggire prima dell'arrivo degli agenti. L'identificazione di Spina è avvenuta oltre che con l'ausilio delle videoriprese dal ritrovamento del suo telefono cellulare che sarebbe stato lasciato sul luogo della sparatoria. Incidente mortale ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto in via Militegnoto nei pressi del sottopasso che conduce alla A20 Palermo Messina. La vittima è Davide Cutrupia, 42 anni, che viaggiava in sella ad una moto ed è stato centrato da un'auto, una Fiat Panda. Inutili i soccorsi all'arrivo del personale del 118. L'uomo lascia moglie e due figli. Fermato e condotto in ospedale per i drag test e il conducente dell'auto. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto zigzagare e colpire altri veicoli prima dello scontro. Sull'incidente, indagano i carabinieri, si dovranno stabilire la dinamica e la responsabilità dell'uomo alla guida della utilitaria. E cambiamo argomento, parliamo di assemblea incendi, assemblea pubblica che indetta dal coordinamento permanente metropolitano contro tutti i disastri ambientali legati agli incendi avvenuti nel 2023, chiedono un confronto con il presidente della regione siciliana. Andiamo a sentire. Siamo a un anno della tragedia, della tragedia dei fuochi, dei roghi che hanno colpito l'intera regione l'anno scorso e stiamo vedendo già da alcune settimane quello che sta succedendo fino a ieri a Piazza Armerina con incendi devastanti. Chiediamo ancora una volta di parlare di prevenzione. Non abbiamo visto in 11 mesi di pressione sulle istituzioni un vero e proprio piano di prevenzione e quindi ancora una volta siamo disponibili a un confronto, ad aprire un tavolo di interlocuzione come cittadini con il presidente Schifani per capire qual è la macchina che la regione ha messo in funzione perché tutto questo non accada anche se sta già accadendo. Noi siamo qui per ribadire ancora una volta che le cose che abbiamo chiesto dal 23 luglio dell'anno scorso, ad ora nessuna delle cose da noi chiesto è stata realizzata. C'eravamo illusi che la regione Sicilia con la legge del 29 luglio dell'anno scorso, avendo elevato al rango di AIB tutti i volontari della Sicilia, avesse poi investito i fondi per consentire a questo esercito di persone, circa da 8 a 10 mila persone, di poter vigilare sul territorio. Ciò non è avvenuto e quei pochi fondi che invece sono stati utilizzati, sono tutti stati utilizzati in repressione e non in vigilanza attiva, in prevenzione e in previsione. Fine pena mai per Margherita Buffa, la 34enne ritenuta responsabile insieme al reoconfesso Carmelo Bonetta dell'omicidio di Nicoletta Indelicato, avvenuto a Marsala nel marzo del 2019 quando la 25enne fu uccisa con 12 coltellate, poi il corpo è stato bruciato. Lo ha deciso ieri sera la Cassazione che ha confermato l'ergastolo ritenendo la buffa colpevole di omicidio aggravato con premeditazione e crudeltà. La famiglia di Nicoletta dopo il pronunciamento della sentenza ha dichiarato che finalmente è stata fatta giustizia. E torniamo a parlare di siccità, controlli da parte del corpo forestale per evitare abusi nei prelievi di acqua a Ponte Barca, nel Catanese. In Sicilia siamo ormai all'arresa dei conti e nessuno fa niente. Feder Consumatori lancia l'allarme. Noi lo ascoltiamo. Il corpo forestale della regione siciliana, su richiesta del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, supporta i tecnici consortili nel controllo del territorio nella zona della traversa di Ponte Barca, Paterno nel Catanese. Lo scopo è verificare che i prelievi d'acqua corrispondano alla distribuzione oraria prevista e non si verifichino abusi né furti mediante l'impiego di pompe non autorizzate. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Questo governo regionale si aggiunge alla lunga lista di governi che non hanno fatto nulla per risolvere l'emergenza idrica in Sicilia e dagli anni Ottanta che le grandi città, in particolare Palermo e Catania, periodicamente hanno a che fare con acqua razionata e lunghi periodi di disagio per centinaia di migliaia di cittadini. Adesso però, con l'aggravarsi della crisi climatica ad avere disagi, sono anche cittadini di piccoli comuni dalle coste all'entroterra. Feder Consumatori Sicilia è fortemente preoccupata non solo per la situazione attuale, ma anche per la gestione di questa situazione. Sostanzialmente una non gestione che, se non viene corretta subito, potrebbe avere anche conseguenze sanitarie pesanti. La situazione è pericolosa dal punto di vista sanitario, infatti. L'isola è tutta un brulicare di autobotti che trasportano acqua e che viene da chissà dove, che non è stata controllata da nessuno e che viene trasportata in modo spesso non conforme alla normativa sanitaria. Feder Consumatori Sicilia, pertanto, invita i cittadini che si servono di questi servizi privati a stare molto attenti. Non usate finché è possibile quest'acqua per scopi alimentari. Se siete costretti, allora fatela bollire prima di usarla. Feder Consumatori Sicilia si aspetta che i comuni, tramite le rispettive polizie municipali, si attivino prontamente per controllare gli operatori privati che stanno vendendo acqua a cittadini e attività economiche. E i controlli non devono essere solo fiscali e burocratici. Il sindaco, infatti, è sempre responsabile della salute pubblica nel comune che governa. E ora parliamo del centro storico di Palermo diviso tra Movida, Spaccio e Risse. Secondo i residenti e commercianti, infatti, le rapine, i furti e gli atti di violenza sono ormai all'ordine del giorno, soprattutto nella zona di Via Macheda, che è diventata teatro di scontri. Ascoltiamo adesso l'appello del vicepresidente della prima circoscrizione, Antonino Nicolao, e la presidente dell'associazione Macheda Città. La sicurezza nel centro storico di Palermo desta ancora tante perplessità? Assolutamente sì, desta preoccupazione, crea condizioni di vita insicure. Abbiamo un centro storico che abbiamo più volte denunciato, abbiamo fatto dei cortei, abbiamo fatto le fiaccolate, abbiamo chiesto in un incontro con il Comitato per l'Ordine della Sicurezza, al prefetto, a quest'ora tutti gli organi che si occupano di sicurezza, di attenzionare questo quadrilatero della stazione centrale. E quindi noi auspichiamo che il Comitato per l'Ordine della Sicurezza possa inserire questo quadrilatero della stazione centrale come fito sensibile, ad alta densità di microcriminalità. Questo porterebbe alla presenza delle forze dell'Ordine, porterebbe maggiori controlli per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo anche chiesto al Comandante della Polizia Municipale di far transitare più Polizia Municipale in quelle zone, anche per quanto riguarda tutto ciò che deve rispettare le normative della vendita dell'alcol oltre un orario. Abbiamo chiesto, attraverso l'assessorato alle politiche sociali, che si disponga una maggiore presenza degli assistenti sociali per strada. Bisogna andare a capire tutte queste persone che dormono per strada, se ci siano le possibilità di non farle più dormire per strada. Ci sono notizie in merito al ragazzo vittima di aggressione venuta il 4 luglio, ricoverato in ospedale? Ma finalmente sembrerebbe che la Polizia abbia fatto luce sul nome e cognome, sull'età e su quando è arrivato più o meno nella nostra città. Adesso non possiamo che fare ancora un in bocca al lupo, sperando che questo ragazzo riesca a farcela. Un'associazione per il Centro Storico di Palermo rimasto inascoltato. Quali sono le vostre iniziative per aiutare i cittadini? Noi abbiamo creato questo comitato dei residenti per la situazione grave, gravissima, in cui ci siamo trovati. Abbiamo visto un controllo della strada, del territorio, più intenso. Naturalmente però cosa accade? Che una volta che le forze dell'ordine che fanno il loro lavoro meravigliosamente se ne vanno, naturalmente ritorniamo al punto di partenza, con lo spaccio, con il malo affare. Quindi noi chiediamo un controllo e l'abbiamo chiesto, lo richiediamo, un controllo stabile, fisso, in modo da debellare tutta questa illegalità e questa malavita. Siamo tornati nella seconda parte del Tg Media News con tutte le altre notizie dalla Sicilia. Locazioni brevi per il turismo a Messina, un'opportunità per lo sviluppo dell'economia e delle proprietà immobiliari. Ascoltiamo come nell'intervista fatta a Giorgio Spazzini-Testa di Confedilizia. In una città come Messina che si sta riorganizzando per l'accoglienza turistica si parla di locazione breve come un'opportunità di sviluppo, ma in che termini? L'allocazione breve è un'opportunità di sviluppo dell'economia e anche della proprietà immobiliare nei termini con i quali si è sviluppata in tanti altri luoghi e paesi. È un modo per valorizzare i nostri immobili, per farli crescere. Spesso gli immobili sono soggetti anche a decadimento se non vengono adeguatamente utilizzati. È un modo per sfruttare le potenzialità del turismo, è un modo per sviluppare la ristorazione e tante attività commerciali, è un modo per far crescere una città e anche l'economia ad essa collegata. È una cosa da difendere e tutelare. In tante città italiane il problema è davvero di far tornare a nuova vita tanti immobili perché ci sono le case abitate, ci sono le case locate per periodi lunghi, ma ci sono tanti immobili che anche per la paura della locazione lunga nel mancato rientro in possesso degli immobili vengono lasciate un po' in attesa, magari con la prospettiva di darle a un figlio o a un parente, ma devono invece essere fatte rivivere attraverso per esempio le locazioni brevi. E cosa dovrebbe scattare? Qual è il passaggio per il quale un proprietario di immobile potrebbe convincersi di applicare questo sistema ed evitare quanto detto? Il passaggio intanto può essere anche dalle amministrazioni comunali quello di favorire questa attività attraverso gli strumenti fiscali che si hanno, quello del Limo in particolare e comunque il passaggio vero e principale è quello di non fare, mi permetto di dire, cioè non ostacolare, non scoraggiare perché spesso la tendenza è invece questa, quella di considerare il fenomeno degli effetti brevi un pericolo quando in realtà è un'opportunità e quindi già il non fare, il non ostacolare, il non punire è già un passo avanti. E restiamo sempre a Messina, presentata la nuova offerta formativa dell'Università, dal 15 luglio al via le immatricolazioni, sei nuovi corsi di laurea, tra le novità, ma non solo, vediamo. La Sala Senato ha ospitato una conferenza stampa durante la quale sono state illustrate la nuova offerta formativa, i servizi e le ulteriori agevolazioni adottate per garantire il diritto allo studio. L'Università di Messina ha compiuto un ulteriore passo avanti nelle politiche di garanzia del diritto allo studio. Gli organi collegiali hanno infatti deliberato l'estensione della no tax area. La soglia per ottenere l'esonero totale è stata portata da 24 a 28 mila euro di reddito ISEE-U. Inoltre è stata aggiunta un'altra fascia contributiva per i redditi più alti e anche attraverso queste risorse si potrà valutare in futuro un nuovo incremento della stessa no tax area. L'Ateneo ha voluto ribadire altresì il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime di tale fenomeno. Pure coloro le quali sono inserite nei percorsi di protezione infatti avranno diritto all'esenzione. Le immatricolazioni si apriranno il prossimo 15 luglio. Un'altra novità sarà costituita dall'offerta formativa. Saranno sei infatti nuovi corsi di lauree a disposizione degli studenti che si aggiungeranno a quelli già attivati. Per il 2024-2025 quindi anche una proposta sempre più ampia che negli anni è molto cresciuta diventando maggiormente aderente al mondo del lavoro. Il corso di laurea triennale in Marine Science and Blue Bay Technologies in lingua inglese. Il corso di laurea triennale in Transnational and European Legal Studies anch'esso in lingua inglese. Il corso di laurea magistrale in Bioingegneria all'obiettivo di formare ingegneri biomedici e bioingegneri. Il corso di laurea magistrale in Metodi quantitativi per l'economia e la finanza. Il corso di laurea magistrale in Digital Transformation and Innovation Management. Progettato per professionisti capaci di guidare e gestire la trasformazione digitale delle organizzazioni. Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che è un percorso a ciclo unico della durata di 5 anni che abilita le professioni di insegnante di scuola dell'infanzia e di insegnante di scuola primaria. Dal 18 alle 24 luglio torna Cinema City Palermo 2024 con un programma di proiezioni tutte gratuite e talk dedicate al cinema d'autore e anche ai suoi protagonisti. Ospite della prima serata l'attore Fabrizio Ferracane. Vediamo il servizio. Una storia che non si ferma. È una storia che non si ferma ed è una storia che continua e ritorna. Dopo 5 anni bellissimi dove si è creata una comunità grande, si è aggregato un pubblico eterogeneo davvero che va dagli appassionati, agli addetti ai lavori, che va da gente che non ha mai visto un film sul grande schermo. Ritorniamo con una nuova scommessa e una grande sfida che è quella di ritornare a diffondere il cinema in città e dopo tanti anni fatti in un luogo bellissimo come quello di Sant'Erasmo e abbiamo la felicità di poter dire che abbiamo, come dire, in qualche modo partecipato a rigenerare quel luogo e a dare luce. Quest'anno la scommessa è tornare in città e farlo in un luogo che tutti conoscono, che tutti amano ma che probabilmente in pochi frequentano perché è una piazza prestigiosa, una piazza suggestiva e una grande cornice, che è quella di Palazzo Reale, sede dell'Assemblea regionale siciliana. E Cinema City, questa sesta edizione, vuole fortemente che questa manifestazione sia, come dire, un'apripista per far vivere questa piazza. Se dovessimo parlare di numeri e di proiezioni. Parlare di numeri è difficile perché io non amo parlare di numeri perché i numeri sono quelli che la gente dice per fare sensazionalismo, per fare cose roboanti. Io parlo di volti, io parlo di sguardi, io parlo di sorrisi, di gente che fa esperienze collettive che sono... e comunque qualche numero lo possiamo davvero dare, visto che me lo chiedi e voglio rispettare la tua domanda. Sono state più di 20.000 persone in questi anni che hanno creato la comunità di Cinema City. Carmelo Galati che sta seminando benissimo, sta veramente mettendo una piantina di bellezza, di arte, di cultura che fa sempre bene, soprattutto in questo periodo che veramente viviamo... vabbè, delle cose molto... e quindi seminarle fa sempre bene e sono felicissimo perché quando Carmelo mi ha detto che ero l'ospite della prima serata aprire diciamo che le aperture sono sempre un bel modo e quindi evviva Carmelo, evviva il cinema, evviva Santa Rosalia, Cinema City Cinema City è bello, un bel momento. Cosa manca al cinema oggi? Forse le storie, ma no neanche perché le storie comunque ce ne sono... Affidarsi di più ai giovani talentuosi, sceneggiatori, scrittori, cineasti forse dare un'occhiata maggiore, una sensibilità, un ascolto maggiore verso i giovani che scrivono delle cose molto belle. Mi capita anche di fare delle opere prime, dei ragazzi che hanno veramente delle idee molto chiare quindi dare un'attenzione maggiore a chi è, diciamo, nei piani alti perché veramente le raccontano bene le storie, i giovani. Invece dalle 15 al 20 luglio a San Vito, Lo Capo, Sicil'Ambiente Film Festival nella sedicesima edizione sono sempre i diritti e l'ambiente al centro della rassegna cinematografica sviluppata anche con la collaborazione di Greenpeace e Amnesty International. Ascoltiamo. Ci sono circa 47 film divise in quattro sezioni che sono sezioni documentari, lungometraggi, cortometraggi e animazioni. Abbiamo un sacco di ospiti presenti al festival e poi abbiamo una personale che quest'anno facciamo una personale su Nico Bonomolo animatore straordinario siciliano ma bravissimo animatore che farà anche una masterclass in cui si ci può scrivere che ci sono ancora degli spazi liberi, gratuita. Poi avremo Eugenio in Via di Gioia, il concerto, l'intervista concerto con Amnesty International. Abbiamo incontri con Greenpeace, abbiamo tantissimi appuntamenti, eventi, discussioni, dibattiti, di presentazioni di libri. L'appuntamento è a San Vitolo Capo, in due sale. Avremo due sale, il giardino di Palazzo La Porta e una sala che faremo a ridosso del mare vicino al porto. La programmazione è tutte le sere, iniziamo dalle sette e mezza con delle presentazioni di libri a seguire fino a mezzanotte e mezzaluna, tutte le sere, con tanti ospiti e tanti film di qualità e anche di generi diversi. Ci saranno film un po' per tutti, dai ragazzini fino agli adulti, avranno di che vedere per soddisfare il proprio palato cinematografico. Ecco, diritti umani e ambiente, due temi davvero caldi, specialmente in questo momento. Sì, sono la base del festival. Il festival nasce 16 anni fa, basando tutto sull'ambiente e diritti umani, per noi strettamente correlati fin da 16 anni fa, quindi fin dall'inizio, quando nessuno li metteva in relazione. Oggi, per fortuna, questi due temi sono fortemente in relazione e il dibattito su questi temi sono fortemente presenti su tutti i territori nazionali e internazionali. E ancora cinema, alle Taormina Film Festival Sicilian Holiday come proiezione speciale per la serata inaugurale. Venerdì 12 luglio, ore 21.30, Palazzo dei Congressi. Ascoltiamo. Il Taormina Film Festival, uno dei più prestigiosi festival cinematografici d'Europa e prima destinazione per gli amanti del cinema di tutto il mondo, ha nominato il primo lungometraggio di Michela Scolari come evento straordinario della serata inaugurale della Kermes. Sicilia Holiday è incentrato su Mia e Nino, due anime tormentate che hanno in comune più di quanto il pubblico si è inizialmente portato a credere. Mia è un'attrice poco più che ventenne che si ritrova sola in un villaggio di pescatori in Sicilia mentre cerca di trovare una via di fuga dalla sua vita insoddisfacente. Nino è uno scultore siciliano di circa 30 anni che lavora in uno studio artigianale da altri tempi e viene in aiuto di Mia. Mentre la loro relazione cresce, complicata dall'arrivo del fratello di Nino, il film si concentra anche su altre coppie dell'isola che stanno riscoprendo le loro radici e il proprio senso di appartenenza a se stessi e alla Sicilia. Sicilia Holiday sarà proiettato venerdì 12 luglio alle ore 21.30 presso la sala teatro del Palazzo dei Congressi di Taormina alla presenza di tutto il cast e della regista. E ora vi portiamo a Levanzo dove è stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra fotografica Levanzo si racconta. L'esposizione allestita lungo le strade dell'isola raccoglie foto panoramiche e suggestivi scorci d'epoca di Levanzo. L'iniziativa che è inserita nell'ambito del cartellone Ega di estate 2024, organizzata dall'associazione Libeccio con il patrocinio del comune di Favignana mira a tenere viva la memoria. Vediamo le immagini. La mostra fotografica Levanzo si racconta è stata decisa all'interno del gruppo eventi dell'associazione Libeccio. Attraverso le parole, attraverso le immagini noi vogliamo trasmettere alle generazioni future quella che è quest'isola perché bisogna conoscere il passato per scoprire il presente. Con questa mostra che nelle nostre intenzioni è quella di sviluppare in tre anni vogliamo partire con delle immagini di Levanzo come era negli anni 40, 50, 60, 70. Ci proponiamo negli anni a venire di continuare questo progetto facendo il prossimo anno delle immagini delle persone che hanno caratterizzato quest'isola con degli eventi che ci sono stati negli anni che ci hanno preceduto. la mostra ha avuto il contributo di molti Levanzari che si sono attivati per andare a cercare le foto. È stato frutto di un lavoro collettivo di tutta l'associazione e di tutti coloro che hanno voluto partecipare attivamente a che questa mostra adesso è un risultato positivo. E ancora eventi dopo il successo del combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi al sito archeologico di Contrada Stretto il festival musica e parole per un'estate a Partanna in memoria di Sebastiano Tusa prosegue domani sera alle 21 nelle cortile delle Castello Grifeo. Ingresso libero fino ad esaurimenti posti. Ascoltiamo. Musica e parole per un'estate a Partanna è un festival che fino al 22 agosto presenta sette appuntamenti di spettacoli in memoria di Sebastiano Tusa in tre luoghi poco conosciuti ma di alto valore artistico e simbolico della città del Belice che fu molto cara a Sebastiano Tusa l'area archeologica di Contrada Stretto il Castello Grifeo e la Chiesa Madre la manifestazione realizzata dal Comune e dalla Fondazione con il sostegno dell'assessorato al turismo della Regione Siciliana e la collaborazione del Teatro Biondo del Conservatorio di Palermo e delle associazioni Antonio Ilverso e Fidarte Cuticchio ha come filo conduttore la musica nelle sue molteplici declinazioni dai concerti fino agli spettacoli teatrali il programma si avvale la consulenza artistica di Daniele Fico la consigliere della Fondazione e coinvolge artisti di tutte le tè di caratura nazionale e internazionale per presentare al pubblico un ventaglio di repertori che comprendono vari generi senza tralasciare anche l'azione emozionale prodotta dalla stretta interazione tra parole recitate e musica il risultato è un calendario fruibile da un pubblico numeroso che mantiene comunque il tratto distintivo della qualità anche per contribuire a rendere la città di Partanna un punto di riferimento dove recarsi piacevolmente d'estate per i visitatori provenienti da più parti dell'isola e non solo il festival continua giovedì 11 luglio sempre alle 21 questa volta al Castello Grifeo sarà protagonista l'ensemble di musica contemporanea diretto da Fabio Correnti con la voce di Daniela Spalletta un programma molto particolare perché abbina i folk songs di Luciano Berio a canzoni dei Beatles arrangiate da compositori di oggi insieme a brani della tradizione siciliana e anche composti dalla stessa Daniela Spalletta Bene, con questa notizia concludiamo la nostra prima edizione del TG Media News vi ricordo l'appuntamento con la nostra seconda edizione ore 19.30 con tutti gli altri aggiornamenti e approfondimenti grazie per averci seguito vi auguro buona continuazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti